L'Università di Foggia, allo scopo di valorizzare lo studio nell'ambito della didattica e della pedagogia speciale, ha indetto un premio di laurea Inclusion 4.0 che verrà assegnato alla migliore tesi di laurea magistrale inerente i temi dell'inclusione e dei bisogni educativi speciali. Sensibilizzare sempre più il territorio, gli insegnanti, in esso operanti e coloro che sono coinvolti nelle attività di inclusione. Questo l'obiettivo posto dall'istituzione di questo importante premio con l'intenzione che è quella di creare una società tale da valorizzare le diversità, favorendo il raggiungimento delle life skills necessarie e a garantire un futuro a individui con bisogni educativi speciali. Gli elaborati dovranno pervenire tra il 24 agosto e il 30 settembre e il vincitore del premio vedrà la propria tesi pubblicata all'interno della collana editoriale Tecnologie per l'inclusione edita da Progedit. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Ateneo.